all'inizio sinceramente i miei bambini non volevano frequentare una scuola d'inglese e questo mi preoccupava molto però era necessario e fondamentale conoscere la lingua inglese in realtà è stato un sollievo perché quando hanno cominciato a frequentare il british council erano contenti felici di venirci imparano divertendosi è un mondo di colori di disegni in realtà poi mi rendo conto che stanno imparando as part of my role as a coordinator i help teachers with producing materials and also supporting their training needs as well through regular online and face to face in sets mia figlia si è trovata benissimo tutti questi anni è cresciuta le piace molto il sistema che usano gli insegnanti per spiegare la materia this something positive or negative negative this week we have started a spring competition and this is a poetry based one all'inizio avevo paura che fosse pesante per lei invece il primo giorno quando sono andata a riprenderla mi ha accolto con con il sorriso sulle labbra e quindi lì ho capito che avevo fatto la scelta giusta